Una sorta di manuale di sopravvivenza per sorridere e comprendere i nostri tempi. Questo è Piraterie e Riflessioni Brevi di Vita Social, scritto da Francesco Pira e i cui diritti d'autore saranno devoluti per l'acquisto di vaccini per i bimbi. La rete e le nuove tecnologie hanno inevitabilmente condizionato e modificato la quotidianità di ciascuno. Internet, Facebook, Instagram e gli smartphone hanno fornito nuovi codici e linguaggi che hanno impostato la comunicazione e le relazioni su ritmi prima impensabili e su modalità di interazione dettate dal qui ed ora. Francesco Pira ha raccolto in questo volume 81 articoli pubblicati sul quotidiano La Sicilia in un'apposita rubrica denominata Piraterie, che ogni domenica si è meritata la terza pagina del giornale. Nel libro ci sono episodi molto carini, il ragazzino che non riesce a partecipare al presepe vivente perché la mamma pretende che non debba fare il pastore ma almeno il remaggio, c'è il ragazzo universitario che deve tatuarsi una frase in latino e che chiede la consulenza alla professoressa e poi ci sono racconti di gruppi di Whatsapp delle mamme e della nostra varia umanità. insomma vi consiglio di leggerlo e soprattutto vi chiedo di dirmi se un po' non vi ci ritrovate in quella che è la nostra quotidianità alle prese con gli smartphone, alle prese con i social, alle prese con il web.